Il Pontificio Consiglio Corunum, in occasione del Giubileo della Misericordia, ha promosso una giornata di ritiro spirituale per le persone e i gruppi impegnati nel servizio della carità. La giornata da tenersi nelle singole diocesi durante la prossima quaresima sarà occasione di riflettere sulla chiamata ad essere misericordiosi come il Padre. Invito ad accogliere questa proposta utilizzando l'indicazione e i sussidi preparati da Corunum.